Ciao ragazzi, questa sera siamo a Delhi, ultima sera, ultimi strascichi di India adesso ho intenzione di farmi fare questo tatuaggione fighissimo con le nè che in realtà è solo per donne, solo che qua i turisti glieli fanno anche te li fai fare un po' dove cazzo ti pare penso di farmelo fare sulla spalla oggi ho fatto shopping selvaggio per un giorno, diarrea estenuante, sono letteralmente sfinito vabbè, tra qualche ora all'aeroporto dai ciao a tutti, un saluto indiano, vedete il cenno con la testa orizzontale non so perché una specie di no significa sì da queste parti ciao